Oli, 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 oli. Ai, 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 ai vedi solo in fotografia, perché in Europa sei un pupazzo, oh Gobbo, attaccati la la la, go go go, e come godo godo go go go, e come godo godo go go, e come godo go go, Ajax disinfettante elimina fino al 99,99% dei batteri, muffe e lieviti, ma soprattutto elimina la Juve dalla Champions League, e andiamo, anche quest'anno è volata via, la 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 la, l'Ajax vince 2 a 1 all'Alliance Stadium, e li butta fuori per l'ennesima volta dalla Champions, ah che falliti, che falliti, ma questa sera non solo ha vinto l'Ajax, ma ha vinto il calcio, ripeto non solo ha vinto l'Ajax, ma ha vinto il calcio, ed hanno vinto tutti coloro che amano questo sport, perché questa sera un vero appassionato di calcio non poteva fare altro che tifare per l'Ajax, per gli olandesi che hanno dimostrato di essere una squadra veramente fantastica, una squadra che gioca un calcio spettacolare, che ha stradominato questa doppia sfida, e che ha strameritato la qualificazione alle semifinali, questa sera ha vinto il calcio, ha vinto il calcio stasera, e quelli lì non sono stati in grado di vincere la Champions per l'ennesima volta, neanche con in squadra un marziano che vi butta dentro ogni pallone, neanche con tutti i soldi spesi con le plusvalenze false, ma tutto ciò dimostra tutta la vostra incapacità, tutta la vostra incapacità, falliti, falliti, e cosa avete fatto? Cosa avete vinto? Voi dite a noi zero titoli, a parte che dobbiamo ancora giocare in Europa League, ma comunque voi cosa avete vinto? Il solito scudettino? Il solito scudettino in Italia dove siete aiutati alla minima difficoltà e con ogni mezzo possibile? Cosa avete vinto? Il solito scudettino, Ronaldo, oltre 200 milioni spesi per vincere? Il solito scudettino, Ajax, Ajax, disinfettante, elimina fino al 99,99% dei batteri, muffe e lieviti, ed elimina gli incapaci e i falliti dalla Champions, Ajax, disinfettante, disinfettante. Mamma mia, ma parlando seriamente, ma l'Ajax che squadra è? Che squadra è? Una squadra, probabilmente la squadra che gioca il miglior calcio in Europa in questo momento, veramente sono un qualcosa di fantastico, deve migliorare soltanto un po' di più in fase realizzativa, perché ad un certo punto nel secondo tempo si sono mangiati veramente di tutto, e perché questa partita nel secondo tempo poteva finire anche 4-5 a 1, perché per tutti i 45 minuti li hanno messi sotto, creando azioni spettacolari, arrivando sempre sotto porta, però hanno sprecato veramente tantissime occasioni, ma stessa cosa anche all'andata, soprattutto nel secondo tempo. Ma poi una qualità di gioco straordinaria e ad una velocità supersonica, veramente un qualcosa di straordinario. Io adoro queste squadre che mettono in mostra un calcio del genere. Peccato che noi purtroppo da quest'anno abbiamo perso il calcio spettacolo che avevamo con Sarri, abbiamo visto diverse volte che comunque abbiamo possibilità di esprimere quel tipo di gioco, però comunque sarebbe stata una grandissima cosa quella di portare avanti quello che era il nostro stile di gioco insieme a Maurizio Sarri, perché veramente poteva essere intrapreso un percorso di tanti anni, e giocando questo calcio potevamo arrivare veramente a livelli straordinari anche per quanto riguarda i trofei internazionali. Però ora è inutile fare certi discorsi e le possibilità di arrivare in alto le dovremmo avere ugualmente. E comunque dall'inizio diciamo che nel primo tempo la partita è stata abbastanza equilibrata. Si parlava di un Ajax che giocasse un calcio spettacolare ma che non avesse la difesa, ma invece non è per nulla così. L'Ajax è riuscito ad avere anche un'ottima solidità difensiva, e quelle poche volte che la Juve si è presentata in avanti ha mantenuto benissimo anche in occasione degli attacchi finali quando eravamo sul 2-1. C'è De Ligt, l'indifesa veramente straordinario De Ligt che oltretutto ha anche segnato il gol decisivo, ma poi Ziyech, che qualità, Tadic, Neres, veramente giovani calciatori fantastici, ma questa squadra veramente andando avanti per tanti anni può diventare veramente una delle squadre più forti a livello europeo, perché oltretutto sono giovanissimi, sono giovanissimi, e quindi l'Ajax tenendo tutti questi calciatori per tanti anni, se riuscirà a fare ciò veramente diventerà forse la squadra più forte d'Europa, soprattutto se oltre al fatto di tenere questi giovani talenti, aggiunge il fatto di continuare con questo stile di gioco. E comunque l'Ajax sta dimostrando che questo stile di gioco con giovani talenti può anche battere, diciamo, squadre superiori con al proprio interno dei campioni, e quindi veramente l'Ajax sta facendo un qualcosa di straordinario in questa Champions League, perché alla fase a Gironi ha incontrato il Bayern Monaco ed anche lì ha fatto una bellissima figura. Poi agli ottavi di finale è andato al Bernabeu a dare veramente spettacolo ed ora ha praticamente annientato la Juve, quindi veramente complimenti all'Ajax e ora sono molto curioso di vedere come continuerà il suo percorso in Champions. E quindi ragazzi, che dire, anche quest'anno ai Gobbi è volata via, la Champions è che ci volete fare, che ci volete fare, questo è. E quindi ragazzi, detto questo io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!